Aishamba! Aishamba! Luca, Alfonso, Angelo. Attenzione, è stato smarrito un cartellino di un atleta della Gis. Chi avesse trovato un cartellino non suo, spesamente guardate, a Gareta 2 Corsi a 7, nei 200 stili libero, è pregato di portarlo al tavolo della giuria. Ripeto, chi ha trovato un cartellino non suo, lo porti al tavolo della giuria. Grazie. E intanto in questo canto africano che ci accoglie per la terza serie 200 rana uomini dalla Antares Moto, Gritti, Francesco. Dal Gabbiano, Corsia 2, Schiavon, Sandro. Dal Candido, Cabbia, Corsia 3, Pontevon, Andrea. Corsia 4, dalla Rana Dura Conegliano, Maffer, Stefano. Corsia 5, dalla Arca, Boer, Mattia. In Corsia 6, dalla Acqua Ambiente, Barotti, Enrico. In Corsia 7, dallo Sporting Club Noale, Pinton, Riccardo. E in Corsia 8, dal Candido, Cabbia, Regali, Enrico. Rigtou. Novo. Novo, novi. Nonvo, niente. Comeva, novo. Comeva. Novo, novo. Novo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.